Avvocato Morra, ieri c'è stato per caso un interrogatorio con la sua assistita, la dottoressa Mattucci? No, ieri non c'è stato l'interrogatorio. Ieri la signora Mattucci è stata invitata, quale persona interessata a un procedimento o co-interessata, a rendere sommare informazioni e lei si è resa disponibile, ha fornito le informazioni che vennero richieste e alle quali ha aggiunto anche copiosa documentazione. Ricordiamo che stiamo parlando della sua attuale posizione come direttore sanitario e il fatto che sia in quescenza. Lei mi conosce bene, in fase di indagini non entro mai nel merito, le posso solo dire quello che è successo, c'è stata questa audizione per sommare informazioni, non è stato formulzato nessun capo di imputazione e quindi ad oggi la sua è un'ipotesi. Comunque sia, ad abbondanza, mi ripeto, la mia assistita, forte anche delle sue competenze, ha depositato anche documentazione relativa alla sua posizione, sia dal punto di vista formale che sostanziale. Quindi avete depositato un parere legale? Sì, ho depositato un parere legale. Sulla sua posizione da direttore sanitario? Sulla sua posizione, sulla legittimità della sua posizione e su tutte le norme di riferimento circolare e ministeriale e via di seguito.